Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore Di trovare te, trovare insieme a te Ciao Giancarlo, quando sto in depressione Come stai? Non posso andare, è brutto proprio Ma per cui è brutto? Tu mi vuoi capire? Ma tu non devi Guarda che culo a questo Ma non devi guardare queste cose Guarda questo alto Sì lo so È in depressione Giancarlo Ho preso proprio come l'altra volta Sono andata a casa e ho preso la Bibbia Ma non sono riuscito a leggere Ma tu non riesci a leggere Lo so Perché hai gli occhi pieni di queste donne Tu non devi guardare queste cose Devi pensare alla salute E come faccio? Vedi il sole? Sì Il camonto, tutti questi doni E so che lo dì Tu non devi davventare A queste cose che vengono dalla carne Giancarlo Te lo so Ma io quando vedo una donna non ce la faccio più No, guarda È troppo Mi sto sempre come un animale E che scritto? Leggi Vuoi cantare una canzone? È una canzone È una canzone che mi ha ispirato Don Bertino No E poi non importa il come Dove il sole Don Bertino me l'ha ispirata Ma mamma mia è bellissima Eh lo so Perché non facciamo? Cosa vuoi fare? Un complesso di rock Di musica cristiana Siete accorto? Per me va bene Solo che bisognerebbe partire un attimino Con i progetti Facciamolo E lo possiamo fare Tu cosa è meglio? Mettiamo su un complesso rock Rock cristiano Rock cristiano? Faremo tanti soldi Andremo in giro per molte chiese Andremo tutti in beneficie Faremo qualcosa di grande Andremo dal vescovo Parleremo della chiesa Della nostra vita Dai facciamolo Va bene Per me si può fare Solo l'importante è Provare un tastierista Tipo Sanpei Un tastierista capace Che si occupi di tutto Guarda questo Non guardare le donne Non guardare quella Non guardare Giancarlo Io non la guardo Però io non mi sono Ci potremmo chiamare The Dreamers The Dreamers Chi? The Dreamers? Che significa? Sì che va bene allora Giancarlo Per me si può fare Oh Faremo grande Successo dai Va bene Iniziamo a fare Io non credo che la commissione di vigilanza Sia Ragazzi Perché non fate un gran bel sorriso Quando siete in scena? Non c'è motivo di essere rogubri Mi sono spiegato Beh siamo un gruppo rogubri Pensate solo a piacere alla gente E nient'altro Forse dovreste sapere Che il signor Sullivan Sta pensando di proporvi Altri quattro spettacoli Vi tira Ci tira Risolveremo la cosa Mi dia solo cinque minuti Ok? Ok D'accordo allora Giancarlo Sì è gianzo Solo cinque Leibox e gentlemen The Dreamers Sì è gianzo Sì è gianzo Sì è gianzo Oh Hai Hai Sì è gianzo Sì è gianzo